Ovvio, Uccio Aloisi e Uccio Bandello erano gli unici ad avere un modo di portare la pizzica in maniera particolare. Adesso ve la raccontiamo a voi, che forse ancora non lo conoscete, speriamo che vi piaccia e noi invece la facciamo ballare. E l'aria l'aggiun benare in noi, a splendore in l'aria. De vedere dove sia, de vedere dove sia, a vedere dove sia la mia memoria. A vedere dove sia la mia memoria. 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 La mia memoria.